La scorsa settimana ci siamo lasciati con un video su come si legge il calendario romano, ma non vi ho detto una cosa. Dopo tutte le diciture che vi ho citato, se ne aggiunge anche un'altra, che è quella della qualità dei giorni. Normalmente si tende a pensare che la qualità dei giorni indicassero solamente degli aspetti, diciamo, di valore strettamente legale, ma questo valore di carattere legame ha un'origine che è di carattere religiosa. Effettivamente ad un certo punto della Tarda Repubblica ci si concentrò solamente su quel dettaglio e quindi quando i magistrati potevano riunire i comizi, quando potevano emanare le sentenze e quando non potevano. Ma questo aspetto, come dicevo, ha un'origine religiosa perché indica la presenza di determinate forze che permettono o non permettono determinate azioni. Le qualità dei giorni nascono, secondo le fonti, con Numa Pompilio, che le introduce insieme al suo calendario. Numa Pompilio, lo ricordiamo, il re sacerdote, è colui che fonda gran parte dei sacerdozi della Roma arcaica, è il secondo re di Roma, successore di Romolo, e aveva una relazione con una ninfa che gli dava tutti quanti i suggerimenti di carattere religioso. Queste qualità dei giorni, già con il re Ancomarzio, divennero pubblici. Infatti lui ordinò di trascrivere i riti e le feste dei libri di Numa e di esporli pubblicamente, questa notizia ce la riporta Livio, affinché nessuno fosse ignorante in questioni sacre e tutti potessero eseguire i riti in modo corretto. Dopodiché, poiché erano i pontefici ad occuparsi della stesura del calendario, accade che lentamente questa conoscenza rimase in mano solamente ai pontefici e in generale i patrizi approfittavano un po' di questa questione perché i plebei non avevano modo di sapere in quali giorni si potessero riunire i tribunali e quando no, cosa che facilitava ovviamente le angherie da parte del patriziato. Tutto ciò fino al 304 a.C., quando Lederle Curulegneo Flavio prese il calendario e lo espose pubblicamente all'interno dell'albo del foro. Tutti i calendari comunque che noi abbiamo a livello di fonti sia epigrafiche sia bibliografiche, tutti quanti riportano le qualità dei giorni, per cui all'epoca delle nostre fonti questa notizia era certamente di dominio pubblico e alla portata di tutti. Da ciò capiamo che la qualità dei giorni non è una questione irrilevante che va in secondo piano o che riguardava strettamente una questione di diritto, ma era un problema sostanziale e la questione del diritto era una delle conseguenze di un problema che si presentava a monte. Ma quali erano queste qualità dei giorni? I giorni all'interno del calendario erano divisi in fasti, nefasti, endotercisi, fasti nella prima parte, nefasti nella prima parte. Ma oltre a questo c'era anche il dies religiosus e i dies atri, di cui ne approfittiamo e ne parliamo in questo video. Anche se in realtà non comparirebbero come sigla, come dicitura nel calendario, ma compaiono nella parte dedicata ad ulteriori dettagli che riguardano quel giorno. Per cui alcuni giorni potrebbero essere, per esempio, fasti, ma giorni oscuri o dies religiosus. Ma lo vedremo meglio quando ne parleremo alla fine del video. Bene, prima di cominciare voglio ricordarvi che se questo video vi è piaciuto di lasciarci un placet, di scriverci qualcosa nei commenti, anche solo un grazie o alcune vostre riflessioni su questo, e di condividerlo con i vostri amici perché altrimenti non lo vedranno mai. Tra l'altro vi ricordo anche che è uscito il nostro calendario. È un libro di 160 pagine che contiene la descrizione di tutti i mesi romani e di tutti i calendari romani. Per cui, ovviamente, essendo un calendario, è aggiornato al 2022 e ogni anno, insomma, noi lo ripubblichiamo. Perciò, ecco, se volete, prendetevelo, vi lascio il link in descrizione. Ma adesso cerchiamo di capire qualcosa di più sulle qualità dei giorni, visto che le trovate anche nel calendario, e quindi, sigla! Allora, cominciamo dalla prima di queste qualità, che è quella fondamentale che ci serve per capire molte delle altre. I giorni fasti. Fastus deriva naturalmente dal termine fas, cioè è fatto, è secondo norma religiosa. E in questo giorno ai magistrati era consentito il fari. Che cos'è il fari? Il fari è la parola di potere. Naturalmente fa parte del verbo for faris fatus sum fari, che è la parola di potere, diciamo. Letteralmente significa parlare solennemente, narrare, cantare. È la parola tipica di tre categorie. I magistrati, i vaticini e gli dèi. Per cui possiamo dire che è la parola di potere, la parola in grado di apportare un cambiamento. Gli dèi parlano e le cose avvengono. I vaticini parlano promettendo un avvenimento futuro e i magistrati parlando, ed ecco qui arriviamo alla questione dei tribunali, e mutano la condizione di un individuo, dando o meno la condanna. Questo fatto che le parole hanno il potere di mutare la materia è fortemente presente nella religione romana. E questo lo vediamo in moltissimi termini che sono intorno al mondo, diciamo tra virgolette, della magia. Per esempio, incantum, naturalmente significa incantesimo, è una parola composita di in più cantum, cioè fatto in modo cantato. Similmente, ex cantum, cioè canto fuori, è la parola composita di appunto ex più cantum. O ancora, invocazio, da in più voco, chiamo dentro, e così anche evocazio, da cui letteralmente evocazione, ma per i romani intendevano un rito preciso con questo termine, che è appunto ex voco. Chiamo fuori, ma ancora, tutti i Carmina, che sono, diciamo, le magie della tradizione più arcaica, da cui nasce anche tutta la poesia arcaica, divisi in Bona e Mala, Bona Carmina e Mala Carmina, a seconda che l'incantesimo fosse fatto per fare un'azione buona, quindi, diciamo, tra virgolette, costruire, facilitare, aiutare, oppure danneggiare, il Carmen è proprio un modo di cantare, da cui anche la dea Carmenta, che infatti vaticina con le due sue divinità che la accompagnano, antevora e post-vorta. O ancora, le maledizioni, la che nella Tarda Repubblica si ridurrà ad essere meramente la diffamazione, ma nasce proprio come incantesimo, tant'è vero che veniva punita con la stessa pena con cui si malediceva in altro modo qualcuno, cioè la messa a morte. Maledictio, appunto, è un'altra parola composita da malum dicere, cioè dire male letteralmente, e quindi la parola ha questo enorme potere di carattere magico. Questa parola di potere all'interno della magia ha certe analogie con il fari dei magistrati. Gli unici limiti del potere della parola di potere dei magistrati del fari sono la voce del popolo che si esprime attraverso la provocatio ad populum che era un istituto che esisteva già in età monarchica, poi sospeso e poi ripreso all'inizio della Repubblica in cui appunto un cittadino condannato a morte poteva appellarsi al popolo per farsi in genere commutare la pena. Oppure altro elemento che può impedire il fari dei magistrati è la sacro sanctitas, quindi l'inviolabilità dei tribuni della plebe, oltre a naturalmente eventuali interventi divini diretti tramite segni. Dunque nei giorni fasti per motivi religiosi che noi non sappiamo esattamente era consentito l'uso di questa parola di potere l'uso del fari guardando i calendari non sembrerebbero avere una logica per come sono distribuiti all'interno di tutto quanto il calendario ma questo più o meno vale per tutte le qualità dei giorni ad eccezione degli NP su 12 calende 6 sono faste e 6 non lo sono per quanto riguarda le nonne ad esserlo sono solo 5 mentre invece per quanto riguarda le id nessuna è fasta e quest'ultimo fatto delle id forse può essere spiegato perché tutte le id sono sacre a giove e quindi in quel momento è il fari di giove che deve avere maggior potere e quindi forse è per questo non sapendo le motivazioni che stanno alla base della distribuzione delle qualità dei giorni o almeno di tutte le qualità dei giorni diventa anche difficile riuscire a capire come sono distribuite ecco fatto sta che valutando 33 calendari epigrafici che ci sono giunti anche se in maniera frammentaria in aggiunta a quello che ci dice Ovidio nei fasti possiamo dedurre che i giorni fasti non erano maggioritari rappresentano solo il 13 16,6% di tutti i giorni dei calendari questo virgola 6 è perché è un calcolo basato su una media di tutti quanti questi calendari per cui considerando alcuni tratti frammentari in cui la data non c'è quindi non la sappiamo per certa e considerando alcuni cambiamenti che sono avvenuti perché nel tempo alcune qualità dei giorni sono state cambiate ecco perché c'è questa virgola e non c'è un numero intero di contro i giorni nefasti sono ovviamente i giorni in cui non è permesso fari questi cadono nel periodo delle feste dei morti di febbraio e dei lemuria nei periodi di feste di divinità connesse alla terra come i ludi di bagnamater o i ludi di cerere e in altre varie date cinque calende su dodici sono nefaste comunque sette nonne su dodici sempre naturalmente e nessuna delle id è nefasta nel complesso le date nefaste rappresentano il 15,6% di tutte le date dell'anno poi ci sono i giorni comiziali i giorni comiziali sono i giorni tra virgolette comuni diciamo sono quelli che rappresentano la maggior quantità di date del calendario romano e sono i giorni in cui era permesso riunire i comizi i comizi principali quelli diciamo maggioritari più importanti vabbè un po' complicato comunque erano i comizia curiata i comizia centuriata i comizia tributa e i comizia calata i comizia calata erano la forma di comizio più arcaica quella originaria oddio siamo già a 20 minuti e quindi non ve li spiego in dettaglio ma faremo un altro video comunque fatto sta che hanno perso di valore riducendosi ad essere solamente dei punti di riferimento per il testamento e per e in occasione dei matrimoni i comizia curiata riuniva il popolo in curie e anche qui con la perdita di valore delle curie hanno perso di valore anche loro riducendosi più che altro una formalità cioè dovevano presenziare quando un magistrato prendeva l'imperium dovevano presenziare alla nomina del rex sacrificalis e dei flamini maggiori dopo che questi erano stati eletti dai comizi centuriati fino alla fine del terzo secolo avanti cristo erano esclusivamente patrizi poi dopo diventano anche plebei comunque al tempo di cicerone a questi comizi non ci andava più nessuno per cui c'erano 30 lettori ognuno dei quali rappresentava un comizio che andavano a fare le belle statuine in queste occasioni i comizi a centuriata erano la vera riunione di carattere legislativo scusate di carattere popolare elettivo di proposta delle leggi e riuniva il popolo in armi secondo l'ordinamento centuriato prima votavano le classi più alte poi votavano le classi più povere è chiaro che questo avvantaggiava di molto le classi più ambienti ma ciò avveniva nel rispetto di quel pensiero tipico delle città stato antiche secondo cui tu più eri ricco più avevi interesse a difendere la tua città perché nella tua città vi era la tua proprietà e quindi più spendevi per la guerra spendendo più per la guerra eri anche quello che combatteva in prima linea e che rischiava di più e quindi a maggior rischio corrispondeva maggiori diritti di decisioni sulla questione pubblica infine vi erano i comizi a tributa che era la riunione del popolo in tribù e quindi in base sull'entità territoriale alla fine comizia a tributa e comizia a centuriata si troveranno ad avere più o meno le stesse funzioni e sempre più spesso verranno riuniti i comizi a tributa che comprendevano veramente tutti e sempre meno i comizi a centuriata poi come vi ho detto come vi ho accennato prima vi erano altri comizi di minore importanza tipo quelli sacerdotali o quelli plebei che erano dei concili a dire la verità ma ne parleremo in un altro video anzi se volete fatemi sapere nei commenti se volete un video in cui vi spiego bene tutti i tipi di comizi romani e così ve lo preparo comunque i giorni comiziali come vi dicevo sono la maggioranza rappresentano il 49,6% di tutte le date dei calendari in media sempre poi vi erano altre due qualità dei giorni quelli fasti principio e quelli nefasti principio sui giorni nefasti principio vi è una discussione e vi è una certa incertezza sul significato della lettera P ma diciamo che potrebbe essere prior principio comunque concettualmente la prima parte è abbastanza intuitivo su che cosa significhino fasto principio vuol dire che la prima parte del giorno è fasta e la seconda no per cui presumibilmente prima di mezzogiorno nefasto principio invece al contrario è nefasto nella prima parte del giorno se il resto del giorno di contro sia nefasto nel primo caso e fasto nel secondo caso non lo sappiamo però presumibilmente doveva essere invece comiziale perché già ci sono gli endotercisi ad alternare fasto e nefasto come poi vedremo i giorni fasto principio rappresentano appena lo 0,26% delle date questo 0, è spiegato col fatto che molto spesso noi non troviamo la dicitura FP ma troviamo semplicemente la dicitura fasto o addirittura al contrario NP mentre invece i giorni nefasti principio rappresentano il 16,2% per cui erano un po' più strutturati poi c'erano i giorni endotercisi sono i giorni che rappresentano i sacrifici pubblici più importanti cosa vuol dire che erano endotercisi che erano tagliati nel mezzo il giorno cominciava nefasto ed era nefasto fino a quando l'animale non veniva sacrificato poi nella parte centrale del giorno mentre l'animale veniva macellato il giorno diventava fasto per cui era possibile fare come abbiamo detto nel pomeriggio gli extra per cui le interiore più pregiate del sacrificio pubblico venivano offerte alla divinità e da quel momento lì in poi quindi la sera diventava nuovamente nefasto infine non ve l'ho citato all'inizio ma ve lo cito adesso vi è una misteriosa dicitura che indica nf nessuno sa che cosa significhi compaiono solo nei fasti pigliani un calendario epigrafico datato alla prima età imperiale tra il 31 e il 37 dopo cristo proprio per il fatto che non ci sono altre attestazioni e ci sono cinque giorni citati in questo calendario con questa dicitura si è pensato che fosse un errore di trascrizione e che nella realtà stesse a significare np per cui nel complesso essendo solo cinque giorni su tutti i calendari rappresenta appena lo 0,22 di tutti quanti gli esempi ora arriviamo alla parte finale che riguarda i giorni oscuri o i giorni religiosi Aulo Gellio scriveva sono giorni di malaugurio di cattiva fama e pieni di divieti nei quali è bene evitare di fare offerte agli dèi res divinita si è vietato fare tutte le cose divine per cui è un po' più ampio rispetto al al mero senso di fare il sacrificio bene evitare di fare offerte agli dèi ed intraprendere qualcosa di nuovo sono quelli che la massa degli ignoranti indica erroneamente come nefasti in questi giorni noi poi sappiamo grazie a Dovidio che i templi erano chiusi che era vietato fare i matrimoni e grazie a Festo invece che in questo giorno è opportuno fare solamente il minimo indispensabile per quanto riguarda questo minimo indispensabile ci viene chiarito con un esempio da Cicerone cioè che se per esempio bisogna fare una questione di vita e di morte va fatta se per esempio cade un fosso cade un fosso in un bue sono stanco se per esempio cade un bue in un fosso allora è consentito tirarlo fuori ma poi bisognerà fare un sacrificio espiatorio ma questa colpa non viene come dire non ha ulteriori aggravanti invece se si commette una violazione volontariamente allora non c'è possibilità di espiazione dice sempre Cicerone comunque tutti questi giorni atri o religiosi nascono in occasione della battaglia dell'Aglia ne abbiamo parlato nel video sulla presa di Roma da parte di Galli per cui andatevelo a vedere se volete sapere come si origina da quel momento lì si decreta che tutti i giorni successivi alle idi alle none e alle calende sarebbero stati giorni atri mentre invece i giorni religiosi sarebbero stati quelli più una serie di date sparse all'interno del calendario tra cui anche la data del giorno dell'Aglia che è il 18 luglio il termine religioso si riferisce al fatto che sono giorni che sono stati presi dagli dei ok sono di proprietà loro questo in analogia a tutta una serie di considerazioni che mette ben in evidenza Claudia Santi Elio Gallo scrive religiosum è ciò che agli uomini non è consentito fare in quanto se lo facessero sembrerebbe agire contro la volontà degli dei rientrano in questo genere i seguenti comportamenti che un maschio entri nel tempio di Bonadea proporre una legge al popolo malgrado auspici negativi discutere una causa presso il pretore in un giorno nefasto appunto per cui sottolinea una separazione un allontanamento e come dice Gelio nelle notti attiche è religioso ciò che a causa di una certa santità è lontano e separato da noi la parola è formata da a reliquendo cioè lasciare o come aggiunge sempre festo fulguritum cioè colpito da un fulmine si riteneva che quel luogo diventasse immediatamente religiosus perché sembrava che il dio lo avesse rivendicato per sé quindi i dies religiosus sono giorni in cui non si fanno riti non si fanno offerte i tempi sono chiusi non ci si sposa bisogna fare solo il minimo indispensabile e riguardano i giorni successivi a Calende non e i di appunto il giorno della battaglia dell'Alia e qualche altro giorno sparso lungo il calendario bene perciò se volete saperne di più trovate tutte queste date nel nostro calendario adesso sapete come si leggono vi faccio anche vedere dove si vedono vabbè si è storto lo specchio vedete eccolo qui c'è una data moderna qui ci sono le indicazioni che vi ho spiegato nel video precedente e questa qui sono le qualità dei giorni mentre invece questo D.R sta per Dies Religiosus bene quindi se volete prendervi il nostro calendario vi lascio il link in descrizione in questo modo oltre ad avere moltissime informazioni nel video che ho pubblicato la scorsa settimana su come si legge il calendario romano ve l'ho fatto vedere molto meglio e spiegandovelo quindi dicevo oltre a tutte le informazioni comunque ci darete una mano insomma ad andare avanti con questo progetto in descrizione trovate anche che è la wishlist di Amazon se qualcuno di voi volesse farmi un regalo visto che i Saturnalia si avvicinano basta direi che ci siamo se il video vi è piaciuto lasciate un placet scrivete qualcosa nei commenti anche solo un grazie o un saluto e condividete questo video con i vostri amici perché altrimenti non lo vedranno mai noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video valete optime in pace deorum a Sassé, suù, aset! Sassé, suù, aset! Sassé, suù, aset!